Pedinamenti e minacce all'ordine del giorno, fino ad arrivare ad imporre rapporti sessuali alla vittima. Allo stalker, un cinquantenne dell'Aquila, è stato così imposto di interrompere la condotta opprimente nei confronti di una quarantenne, residente nella provincia dell'Aquila. La vittima, che in passato ha avuto una relazione con l'uomo, ha seguito degli atteggiamenti ossessivi, ha deciso di porre fine al loro rapporto. All'indomani dell'interruzione, lo stalker ha però cominciato da subito a mettere in atto una serie di comportamenti persecutori che consistevano nell'invio di numerosi messaggi, di chiamate quotidiane, pedinamenti e, mediante minacce, negli imporgli incontri anche di natura sessuale. La donna, ormai esasperata, in uno stato di ansia e paura, che l'ha condotta ad un radicale cambiamento dello stile di vita, si è vista costretta a rivolgersi alla polizia. Dalla denuncia è scaturita la notifica all'uomo del provvedimento di ammonimento, che, come previsto dalla normativa vigente, mira a colpire tutti quei comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo reato procedibile a querela di parte, sconvolgono la vita della vittima, portandola all'esasperazione, facendola sentire indifesa e in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera dalla paura.